Si parla tanto ultimamente di impianti sportivi a Clusone e ce n'è uno che è stato da poco sistemato, stiamo parlando della palestra della scuola media Prina. Si parla tanto e si parlava da tanto tempo, credo che i tanti alunni che sono passati, anche i genitori che hanno avuto la possibilità di venire qui in questa struttura, si erano accorti negli anni che c'era veramente bisogno di una nuova sistemazione con fondi nostri, quindi con fondi a bilancio del Comune di Clusone senza attingere a bandi o a mutui, si è riusciti a dare una nuova veste, un qualcosa di nuovo, un qualcosa di importante anche perché si parla di scuola, si parla di ragazzi, si parla di sport. La palestra non è utilizzata soltanto dai ragazzi delle scuole medie, viene utilizzata anche in altri momenti, dalla giornata, dalle varie associazioni. Abbiamo ritenuto giusto e corretto dare un segnale importante e quindi mettere a disposizione un discreto importo. Quanto è stato speso? Allora, l'intervento globale è di 126 mila euro, quindi una bella fetta delle risorse comunali, anche quest'anno a oggi sono stati spesi 76 mila euro per gli interventi che vedete, che riguardano comunque il soffitto e le pareti. Nel periodo invece delle vacanze tanto attese natalizie dagli studenti, si procederà anche alla sostituzione del pavimento, proprio per riuscire a concludere quest'anno questa ristrutturazione, e come ho detto prima, fieri di poter dare sia alla scuola ma sia anche a tante associazioni, ai tanti ragazzi che fanno sport, un qualcosa di idoneo dove poter sviluppare la loro attività sportiva, così come quando si era intervenuto sugli spogliatoi, perché anche anni fa si erano intervenuti anche sulla parte degli spogliatoi. Quindi diciamo fieri, contenti di quello che si è riusciti a fare, ripeto, senza nessun bando, senza accedere a nessun mutuo, ma gestendo al meglio le risorse del comune di Crusone, quindi riuscendo a mettere a disposizione 126 mila euro. E a proposito di impianti sportivi, l'amministrazione ha deciso dove collocare la nuova struttura polifunzionale? Facciamo un passo indietro, sì, ma l'amministrazione ha sempre condiviso, o comunque condivide l'idea della necessità, evidenziata anche da tanti cittadini, di realizzare una struttura. I lavori sono oramai a buon punto, ripeto, prima che la inauguriamo ci passa qualche anno, perché comunque burocrazia, progetti, consigli comunali, vi dicendo, però come ha riportato qualcuno in via Don Beppo Vassori o come più comunemente diciamo noi a fianco dei campi di calcio, in questo momento si sta procedendo con progettisti al fine di arrivare prima possibile in un consiglio comunale, quindi zona individuata lì, in modo che facciamo chiarezza su questa situazione e poi inizio i lavori mi auguro prevedibili per la primavera dell'anno prossimo.